Preoccupazione è quella che stanno vivendo le persone che amano il mondo dello sport Infatti pensate che Angel Nieto sarebbe ricoverato in ospedale in gravi condizioni perché avrebbe riportato un incidente con il quad verificatosi a Ibiza, città della Spagna L'uomo settantenne spagnolo avrebbe riportato un grande trauma cranico dopo uno scontro contro una macchina Nieto sarebbe intubato affidato alle cure della neurochirurgia dell'ospedale in seguito ad un colpo ricevuto alla testa L'incidente si sarebbe verificato alle 10.30 della mattina Nieto si troverebbe nel reparto di neurochirurgia del Policlinico Nuestra Signora del Rosario della città spagnola I medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico Avrebbe tamponato una vettura, 70 anni, questa le dà di Nieto E' stato, vi ricordo, il re delle piccole cilindrate e 90 sono stati i Gran Premi e i 13 mondiali che ha vinto Io vi ringrazio per il gentile ascolto, speriamo che tutto vada per il meglio per il buon Angel Nieto Che, vi ricordo nuovamente, sta attraversando un momento davvero difficile, delicato Grazie e cordiali saluti a voi tutti